ciao a tutti e bentornati a pillole di storia io sono il kudo e questa è la biblioteca di alessander la community per e degli appassionati di storia qui potete partecipare liberamente potete farlo su facebook sul gruppo seguendoci su instagram sul canale telegram che è sempre più attivo trovate tutti i link in descrizione per unirvi a noi ovviamente potete anche commentare qua sotto sicuramente non mi lamento il video di oggi che devo essere sincero per molti giorni sono stato in dubbio se fare nasce proprio dal canale telegram dove mi è stato espressamente richiesto ed è dedicato a uno degli avvenimenti dello scorso secolo che ultimamente viene più citato a mio parere molto molto a sproposito cioè quella che probabilmente è conosciuta come la più grande e grave pandemia della storia la cosiddetta influenza spagnola se andate in un cimitero di quelli magari un pochettino vecchi e provate a guardare tra le tombe che hanno un secolo più troverete moltissimi giovani e giovani donne morte tra il 1918 e il 1919 massimo 1920 ora può sembrare strano o meglio forse no perché comunque la guerra era terminata eppure molte di quelle morti non furono in alcun modo causate dalla guerra ovviamente tanto meno quello delle giovani donne quanto proprio dall'epidemia di spagnola che in quel periodo miete secondo i calcoli ovviamente molto approssimativi un numero variabile tra i 50 e i 100 milioni di morti in tutto il mondo con all'incirca mezzo miliardo di persone contagiate quindi una mortalità altissima che va dal 10 al 20 per cento un numero di morti che la rende l'epidemia più grave che sia mai avvenuta nella storia superiore anche alla peste nera del 1300 che così tanti gravi danni aveva causato che comunque bisogna dire percentualmente aveva una mortalità più alta semplicemente essendo aumentata la popolazione e soprattutto essendosi diffusa in maniera ubiquitaria su tutta la faccia della terra tra poco ne parleremo ovviamente riuscì a colpire molte più persone parleremo di questa epidemia in tre per tre argomenti parlerò ovviamente prima vi racconterò dell'epidemia in sé poi parleremo di come oggi è stata studiata questa epidemia perché molti degli studi sono stati compiuti negli ultimi 20 30 anni ovviamente con poco materiale a disposizione per poterlo fare e poi parleremo del perché secondo me questa epidemia venga citata un po troppo a sproposito e un po troppo alla leggera quando si parla del coronavirus lo faremo alla fine partiamo da una domanda perché si chiama influenza spagnola forse perché è comparsa all'inizio in spagna la risposta in realtà è no cioè per quanto ne sappiamo ovviamente non vi è una unica idea su questo anche perché i dati sono abbastanza contraddittori l'influenza non inizio in spagna vi sono varie teorie secondo alcune i primi casi comparavano all'inizio del 1918 in in un campo in un campo in un ospedale da campo dell'esercito francese situato dietro le linee siamo ovviamente alla fine della prima guerra mondiale un gigantesco ospedale che poteva contenere anche 100 120 mila soldati feriti in cui si ebbero proprio i primi casi di influenza spagnola secondo altri primi casi invece avvennero addirittura negli stati uniti e proprio dagli stati uniti vennero portati in europa quando vi arrivarono le truppe che venivano di rinforzo a partecipare alla prima guerra mondiale secondo un'altra teoria invece questa epidemia esattamente come il coronavirus sarebbe arrivato dall'oriente dalla cina e avrebbe viaggiato o insieme a delle soldati degli uomini mandati a partecipare alla guerra nell'ultimo periodo oppure venne viaggiò ed è cosa molto più facile molto probabile insieme a marinai e navi che rientravano in europa nessuna di queste teorie però pone il centro dell'epidemia in spagna e allora perché si chiama epidemia spagnola per un motivo molto semplice e visto che l'epidemia scoppiò nel 1918 e gran parte dell'europa si trovava in guerra i giornali dei paesi in guerra semplicemente non ne parlavano ovviamente per una questione di fronte interno per evitare perdite di prestigio ma anche per evitare di spaventare i cittadini ricordiamoci che nel 1918 tutte le potenze sono allo stremo delle forze sia la germania che la francia l'inghilterra l'italia l'austria ungheria sono tutto oramai allo stremo delle forze sanno di poter colorare da un momento all'altro ebbene nessuno dei giornali che era sottoposto a censura parlò dell'epidemia i primi giornali a parlare di strani casi di influenza più grave del solito e di polmonite furono proprio i giornali spagnoli e la notizia circolando da lì nel resto dell'europa venne inizialmente derubricata ad una pandemia solamente spagnola con il risultato appunto di passare il nome di influenza spagnola curiosamente tra i primi gravi colpiti da questa influenza ci fu anche proprio sovrano di spagna cioè alfonso tredicesimo in realtà l'influenza spagnola si stava già diffondendo lungo tutta l'europa in particolare proprio sul campi di battaglia nelle trincee dove gli uomini essendo sottoposti a privazioni sia di cibo stanchezza ferite ma anche grazie al fatto che gli uomini stavano molto vicini uno all'altro costretti in spazi molto angusti perché quando ci si allontanava dagli spazi angusti si metteva fuori la testa si veniva ammazzati quindi era meglio star vicini ebbene tutto questo favoriva la diffusione del virus ora l'influenza spagnola è letteralmente una sindrome influenzale i virus dell'influenza sono grossomodo tutti della stessa famiglia con molta variabilità all'interno vi direi che il virus della spagnola è un virus h1n1 ma credo sia troppo specifico andare a spiegare perché si chiami così vi basti sapere che è una classificazione che viene data ai vari virus ebbene ai vari virus del ceppo influenzale ebbene questo virus si comportava esattamente come un qualunque virus influenzale provate a immaginare cosa succede d'inverno una persona con l'influenza sternutisce vicino un'altra persona con l'influenza e il virus tramite le goccioline di saliva raggiunge il nuovo ospite e potenzialmente lo infetta ora normalmente ripeto questo succede tutti gli inverni e tutti gli inverni l'influenza si diffonde oggi forma fortunatamente un po' meno perché abbiamo i vaccini e raggiunge e talvolta porta a morte le persone più deboli cioè malati oppure persone molto anziane o talvolta bambini molto piccoli una prima fase dell'influenza spagnola fece esattamente questo comparva all'incirca tra il febbraio e il marzo del 1918 e provocò una serie di decessi soprattutto tra le persone più deboli anziani e bambini in testa fino a questo punto sembrava essere una classica epidemia influenzale forse resa un pochettino più grave dal fatto che essendo appunto come detto ormai la fine della guerra essendoci forte privazione mancanza di cibo generale mancanze per la popolazione questo ovviamente permetteva di provocare più morti del solito la differenza rispetto alle altre epidemie però avvenne di lì a qualche mese cioè subito dopo passata l'estate improvvisamente infatti vennero registrati una serie di casi di influenza molto più gravi del solito questa volta l'influenza non si limitava a causare una febbricola a causare tosse raffreddore magari a indebolire per qualche giorno questa volta molto rapidamente l'influenza evolveva in una vera e propria polmonite ora all'epoca ovviamente non lo sapevano noi oggi lo sappiamo molto probabilmente quelle polmonite non erano causate direttamente dal virus ma erano causate da una sovrainfezione batterica cosa vuol dire vuol dire che il virus colpiva ed indeboliva l'organismo e in particolare le vie respiratorie e su quell'indebolimento i batteri andavano a crescere provocando un'infezione molto più grave non essendoci all'epoca gli antibiotici non si sapeva bene come curarla a differenza dei casi precedenti questa volta questa infezione sembrava colpire soprattutto persone giovani all'incirca fra i 30 e i 40 anni cioè persone che normalmente sopravvivono bene all'epidemia di influenza perché questo beh sono state date varie motivazioni le due più diffuse sono in realtà abbastanza opposte ed è possibile che convivano entrambi una delle più affascinanti dice che in realtà ad uccidere chi veniva colpito dall'influenza spagnola soprattutto i giovani non fosse l'infezione in sé ma fosse l'organismo stesso di chi era colpito dalla malattia mi spiego quando uno riceve viene colpito da un'infezione quelli il corpo reagisce lottando contro l'infezione stessa chi di voi ha visto esplorando il corpo umano si ricorderà i poliziotti vestiti di bianco che andavano a picchiare i virus oppure le macchine che andavano a mangiare i batteri bene grosso modo stiamo parlando di questa cosa di tutto questo meccanismo fanno parte vari fattori tra cui ad esempio uno è l'innalzamento della temperatura che provoca la febbre ebbene secondo alcuni questa infezione scatenava una cosiddetta tempesta di citochine cioè per farvela molto semplice una reazione esagerata dell'organismo all'infezione che era molto più dannosa dell'infezione in sé e portava alla morte l'ospite ovviamente quelli maggiormente colpiti da questo da questo effetto non erano gli anziani che non avevano un meccanismo immunitario un sistema immunitario funzionale ma erano piuttosto i giovani cioè coloro che invece avevano un sistema immunitario funzionale che in quel caso era ovviamente un'arma a doppio taglio questa possibilità si scontra ovviamente con un'altra possibilità che invece non va tanto a guardare l'organismo in sé quanto a studiare l'epidemiologia secondo questa seconda teoria il motivo per cui morirono così tanti giovani è da ricercare proprio nella guerra ora mi spiego cerco di partire fare una spiegazione molto semplice partiamo da un assunto un inf perché l'influenza si diffonde molto rapidamente e colpisce molte persone nel mondo questo parlo normalmente tutti gli anni perché è una malattia che non solo si trasmette facilmente ma tendenzialmente ha dei sintomi abbastanza blandi cosa vuol dire vuol dire che se io vengo colpito dall'influenza e ho magari 37 37 e mezzo di febbre ora io sono un uomo quindi con 37 e mezzo di febbre ho le allucinazioni poniamo una donna che è un essere un pochettino più normale ebbene con 37 e mezzo la donna magari va a lavorare e in questo modo trasmette l'influenza a tutti gli altri che lavorano con lei lo farà con chi incontra sui mezzi pubblici lo farà con i parenti se invece io vengo colpito da un'infezione che nel giro di tre giorni mi porta a morte dopo avermi sparato a 41 di temperatura chiudendomi in camera molto probabilmente io quell'infezione non l'attaccherò nessuno un po perché nessuno mi si avvicina un po perché muoio e non ho tempo di farlo questa è sostanzialmente una normale selezione molto probabilmente nel corso della guerra questa selezione avvenne al contrario cioè le persone che si trovavano nelle trincee e che venivano colpite da questa sindrome influenzale se avevano dei sintomi blandi come appunto la febbre rimanevano nelle trincee e continuavano a combattere rimanendo lì e questo direte diffondeva nelle trincee certo ma lo faceva in un ambiente abbastanza limitato se invece avevano l'infezione nella sua forma più grave venivano caricati su un treno magari prima su un carro poi su un treno e spediti nei famosi ospedali militari di cui vi ho parlato prima dove magari si trovavano in mezzo a 120 mila persone e attaccavano loro la spagnola dagli ospedali militari passava ai parenti dai parenti passava ai paesi e rapidamente si diffondeva in tutta europa quale che fosse la motivazione di tutto questo il risultato fu che rapidamente l'epidemia si sparse letteralmente in tutto il mondo tra la fine del 1918 e il 1920 praticamente tutto il mondo venne colpito ci furono moltissimi morti tra gli schimesi in alaska ci furono morti nelle isole del pacifico in australia nuova zelanda pochissimi luoghi scamparono all'epidemia di spagnola normalmente isole molto sperdute come ad esempio sant'eleno alcune piccole isole del pacifico che chiusero i loro porti all'arrivo delle navi ma il resto del mondo venne pesantemente colpito in toto dall'epidemia il picco dell'epidemia in europa si ebbe proprio in quella fine del 1918 tra ottobre novembre del 1918 dei mesi successivi lentamente l'epidemia calò per avere un secondo picco un terzo anzi picco nel marzo del 1919 e poi stabilizzarsi in tutto il mondo l'andamento fu abbastanza simile a questo seppur sfasato nel tempo a seconda di quando arrivava questo probabilmente per vari motivi uno perché il gli organismi colpiti ovviamente una volta sopravvissuti erano in grado di reagire a un'eventuale ricomparsa della malattia quindi si aveva un'altissima mortalità che poi a un certo punto finiva come era successo con tutte le grandi epidemie del passato chi sopravviveva era immunizzato e riusciva a resistere alla ricomparsa del virus il secondo motivo è che secondo alcuni il virus dopo alcuni mesi mutava e tornava alla sua forma per così dire meno meno grave quella che dava i sintomi più leggeri quale che fosse la motivazione alla fine della grande epidemia di spagnolo alla fine del 1920 i casi che si erano contati in tutto il mondo erano quasi 500 milioni un numero letteralmente enorme di questi 500 milioni i morti come detto all'inizio erano numerosissimi tra i 50 e i 100 milioni a seconda di paese paese la mortalità era stata più bassa e più alta in italia sicuramente fu molto alta vuoi anche per le privazioni legate alla guerra se avete ancora qualche nonno in vita dovrete ovviamente chiedere di raccontare ciò che veniva raccontato loro dai padri perché chi si ricorda la spagnola ha come minimo adesso 115 115 anni non credo di meno quindi non ce ne sono credo più molti in vita se vi fate raccontare dei vostri bisnonni dei vostri trisnonni scoprirete che la spagnola se la ricordano tutti e se la ricordano come un periodo in cui letteralmente morivano una due tre persone ogni giorno in ogni paese anche il più piccolo perché ogni paese d'italia ne venne colpito ogni paese si ricorda di quella epidemia un'epidemia che causò più morti della stessa prima guerra mondiale molto interessante e capire come facciamo a studiare questa epidemia beh lo facciamo in realtà in due modi il primo modo è il più semplice andiamo a leggere ciò che venne descritto dai medici dell'epoca a differenza delle grandi epidemie del passato senza andare tanto indietro che ne so la famosa peste del manzoni questa volta l'epidemia venne descritta in maniera scientifica dai medici che erano molto spesso impotenti nel lottare contro queste polmoniti ma che ne descrivevano molto precisamente i sintomi ne descrivevano la diffusione anche perché l'epidemiologia era una scienza che come vi ho parlato vi ho raccontato qualche puntata fa nelle pillole di medicina tra l'altro in descrizione trovate la playlist si stava già rapidamente diffondendo grazie a questo siamo riuscito anche paragonando a ciò che sappiamo oggi dei virus a capire un pochettino suo comportamento come si diffuse e anche a cercare di scoprire qualcosa in più sulla sua origine la secondo metodo di secondo metodo di studio a suo modo molto più affascinante è in stato quello che è stato permesso dallo studio dei virus in sé che sono stati ritrovati all'interno di corpi congelati nell'artico corpi di eschimesi in alaska normalmente che morti colpiti dalla dall'infezione sono stati poi seppelliti e sono rimasti praticamente congelati fino a noi permettendoci così di studiare questo virus seppur con grande difficoltà inoltre questo ci ha permesso di paragonare questo virus anche a virus che avevano colpito le zone a poca distanza come ad esempio la famosa epidemia di influenza russa della fine dell'ottocento e che alcuni addirittura negli anni precedenti avevano paragonato alla spagnola pensando che si trattasse proprio di una prova della futura epidemia di spagnola si sa oggi che invece non è vero perché si tratta di due virus seppur entrambi influenzali però appartenenti a due ceppi diversi l'epidemia russa è un H2N2 e infine arriviamo all'ultimo punto perché secondo me questa infezione è citata un po' troppo a sproposito ultimamente beh perché fa sensazione perché l'epidemia di spagnola e comunque anche per chi non la conosce nei suoi particolari che ho cercato di raccontarvi il grande spauracchio un'epidemia che ha colpito in un'epoca che non è il 1300 ma è neanche poco più di un secolo fa cioè un'epoca in cui siamo abituati a pensare che la medicina già avesse fatto giganteschi passi avanti beh mi spiace dirlo ma non è così perché la medicina del 1920 non ha nulla a che fare con la medicina attuale intanto partiamo da un presupposto i due virus sono completamente diversi il virus dell'influenza era letteralmente un virus influenzale il coronavirus è un virus invece più imparentato con quello del raffreddore ma queste sono minuzie la seconda differenza è che molte delle persone che morirono di influenza spagnola come ho cercato di raccontarvi morirono per una sovrainfezione batterica ebbene oggi noi quella sovrainfezione batterica molto probabilmente la sappiamo combattere bene anzi togliamo pure molto probabilmente perché anche se ultimamente facciamo sempre più fatica a combattere i batteri a causa della resistenza degli antibiotici che ci stiamo autoprovocando ingerendo troppi antibiotici senza chiedere un consulto del medico in realtà oggi abbiamo ancora a disposizione degli ottimi tipi di antibiotici che ci permettono di prevenire quelle infezioni una differenza abissaria se ci fossero stati gli antibiotici all'epoca probabilmente molte delle morti sarebbero potute essere prevenute inoltre inoltre oggi abbiamo a disposizione delle tecniche per aiutare e supportare il corpo di chi viene colpito dalle forme più gravi di questa infezione in modi molto più funzionali senza contare che le forme più gravi di infezione spagnola per quanto ne sappiamo colpivano molto più frequentemente ma nell'ordine di 10 volte più frequentemente rispetto alle forme più gravi di coronavirus qual è però allora problema del coronavirus se possiamo curarlo se abbiamo il modo di supportare le persone seppur purtroppo non potendo supportare tutti con la morte delle persone più fragili e talvolta anche di persone non fragili perché la medicina non è e probabilmente non sarà ancora per molto tempo una scienza matematica perfettamente esatta il problema è che tutto queste cose hanno un prezzo e cioè che per poter supportare al meglio una persona colpita da una di queste infezioni nelle forme più gravi abbiamo bisogno di reparti molto specialistici di rianimazione i cui posti letto non sono infiniti e non lo saranno mai perché hanno un costo molto alto perché in situazioni normali non servivano in un numero così alto quindi se questa infezione si diffonderà rapidamente come si è diffusa quella dell'influenza spagnola il rischio non è tanto di avere le stesse percentuali di mortalità perché non credo che ci saranno mai le stesse percentuali di mortalità sono pronto a scommetterci il rischio è che se il numero di infetti aumenta così tanto e ovviamente aumenta proporzionalmente anche il numero di persone che hanno complicanze più gravi il sistema sanitario potrebbe arrivare al collasso perché non è strutturalmente in grado di reggere un carico così grande non sono in grado di reggerlo i pronto soccorsi non sono in grado di reggerlo le rianimazioni non sono in grado di reggerlo i vostri medici di famiglia piuttosto che la guardia medica anche perché prima o poi anche i medici inizieranno ad ammalarsi anzi lo stanno già facendo e anche senza avere complicanze saranno costretti a stare per 10 15 giorni lontani anzi 14 giorni e il tempo esatto lontani dal lavoro se mancheranno i medici se mancheranno gli infermieri il sistema rischia di collassare perché nessuno può aiutare quindi chiuso questa pillola dicendo seguite le indicazioni che vi danno i medici seguite le indicazioni che vengono diffuse dal ministero non seguite santoni gente che parla di vitamine non seguite la d'urso anche se ha insegnato abbastanza bene lavarsi le mani ma questo è secondario seguite le indicazioni perché forse voi che non so quanti anni abbiate magari 20 30 40 anni non correte nessun rischio ne correte molto pochi da questo coronavirus ma magari vostro nonno di 92 anni a cui potreste attaccarlo perché l'avete preso facendo i cretini trovandovi con altre 200 persone in discoteca ecco forse lui invece rischia di morire perché non siamo più nel 1920 ma le persone di infezione muoiono ancora io mi fermo qua spero che questa pillola vi sia piaciuta che abbia potuto mettere un pochettino in chiaro le cose spero di non essere stato troppo tecnico e di essermi un po più concentrato sulla storia che sull'attualità se volete seguire le mie pillole iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati io vi ricordo di essere curiosi perché il mondo là fuori è pieno di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere e se volete iniziare a curiosare qua a fianco c'è l'elenco delle pillole uscite fino adesso noi ci vediamo domani sarà la pillola numero 350 una pillola speciale faremo un viaggio nel tempo a domani ciao ciao ciao